La riduzione di un'ipoteca legale o giudiziale Con un provvedimento cautelare all'esito di un ricorso ex articolo 700 del codice di procedura civile Infatti l'ordinanza ex articolo 700 del codice di procedura civile Non può ritenersi un provvedimento di natura definitiva Anche se l'introduzione del giudizio di merito dopo quella cautelare non è più obbligatoria Ciascuna parte conserva la facoltà di effettuarla E all'esito del giudizio di merito il provvedimento interinare anticipatorio potrebbe non essere confermato Grazie